È sufficiente comparare i dati con gli altri comuni per vedere quanto sia cara la tariffa dell'acqua nella città di Fano. I numeri sono inequivocabili. Dopo l'allarme lanciato dalla CISL, che insieme alla categoria dei pensionati aveva sollevato il problema del caro bollette, oggi il sindacato torna sul tema, dichiarandosi sorpreso dalla replica di Aset e del comune. La tariffa dell'acqua Fano è più cara di tutta la regione Marche. Abbiamo la pressione fiscale IRPEF allo 0,8 che anche in altre città, in altri comuni, Pesero, Mondolfo, Calcinelli, i sindaci Fossombroni, i sindaci sono venuti incontro anche negli anni passati. La tariffa è aumentata del 2,7, è vero che è un'applicazione della delibera rera, però sono dati che ci evidenziano nuovamente come la pressione tariffaria fiscale per i cittadini di Fano, tenendo conto che i redditi in questi anni si sono abbassati, è aumentata la fascia bassa, è pesante, incide molto sui redditi da pensione e i redditi medio-bassi. La tassa sui rifiuti, ha ribadito Giovanelli, sta diventando veramente pesante per le tasche dei fanesi. La tariffa deve coprire il costo dei servizi e non è più sostenibile per il sindacato che gli utili di Aset vengano utilizzati per finanziare il bilancio del comune. Che cosa rispondete ad Aset, la quale ha parlato comunque di investimenti? Gli investimenti non possono essere fatti aumentando le tariffe dell'acqua, facendo presente che paghiamo una tariffa più alta, anche degli altri comuni. Ci sono comuni virtuosi che per la qualificazione della raccolta differenziata e per investimenti fatti non hanno dovuto aumentare la tariffa della tariffa del 2,7, penso a Terre Roveresca, San Lorenzo in campo, ci sono comuni che scelte li hanno fatti. Sugli investimenti crediamo di aprire un confronto, non possono essere fatti con la tariffa dell'acqua. Facciamo presente ad Aset e al sindaco che in bolletta si paga quota depuratore, quota fognatura, quindi alcuni servizi che Aset imputa alle bollette sono già computati con parte della bolletta. Invece al sindaco e alla giunta che cosa chiede? Al sindaco e alla giunta chiediamo di aprire un tavolo di confronto su questa partita, della tariffa e dell'IRPEF locale. Chiediamo di adottare misure stabili perché anche le ultime risorse significative messe in campo col bonus Tari abbiamo visto come le famiglie poi fanno difficoltà ad accedervi, prima perché è poco conosciuto, poi perché non è stabile. Risorse stabili per ridurre la pressione IRPEF locale e tariffaria. Grazie. Grazie.